Con il dottor Picone, responsabile per il Sud Italia di Energetica Ambiente, si è appena conclusa la prima riunione con i rappresentanti condominali, quindi siamo pronti per partire. Insomma, il 2 di gennaio è ormai segnato in rosso praticamente ovunque e ecco anche i mastelli. Siamo pronti. Sì, effettivamente la macchina è ormai iniziata, come potete immaginare è una macchina articolata e complessa. La società si occupa di queste attività di start-up su tutto il territorio nazionale. Il momento in cui le macchine partono, i motori ormai veramente sono già messi in moto e quindi in questa occasione, questa mattina, abbiamo chiesto la partecipazione attiva degli amministratori condominali perché proprio da loro si partirà con le attività di consegna dei mastelli che sono alle mie spalle e che sono la vera novità del servizio sul comune di Trapani. Ciascun condominio sarà dotato di un adeguato numero di mastelli, diversi colori per ciascuna tipologia e il fatto di riuscire a intercettare tutte le utenze condominali con questa modalità operativa certamente sarà ciò che permetterà la buona riuscita del servizio. Trapani è pronto? Trapani deve essere pronta, tra l'altro c'è una grande aspettativa e registriamo positivamente tutti i suggerimenti, se vogliamo anche le perplessità, le richieste di chiarimenti che ci pervengono da più parti perché ciò sono un segnale dell'attenzione che la cittadinanza nella sua interezza ripone in questo nuovo servizio che sarà un servizio veramente innovativo per quanto riguarda il comune di Trapani.